eccoci qui quei vincitori del primo memorial guidone 2016 guidone is burning edition ama e barbie prima impressione a caldo subito dopo la vittoria siamo i più forti è stata comunque dura perché di là c'erano avversari temibili vecchio franzoso giovane bestie che ci hanno messo in difficoltà fortunatamente conoscevamo i nostri polli e alla fine siamo riusciti a vincere sicuro no però ho avuto io qualche game di debatto però alla fine ci siamo ripresi e abbiamo portato a casa la vittoria questa sicurezza di barbie nel vincere però diciamo la verità è dovuto un po perché vecchi i vecchi campioni del guidone oggi erano assenti quanto vi ha facilitato nella vittoria queste mancanze chi non c'è non ha mai ragione mi riferisco agli SM al prossimo guidone se vogliono stamparci il titolo io il prossimo guidone lo faccio nel 2017 io finisco da vincente finisco da vincente quindi chi non c'è non ha mai ragione ah ma a questo punto vuoi lanciare una nuova sfida per il prossimo guidone si mi riferisco ai vari bestie senior Manu che non si sa dove sia in Spagna sarà figlio bravo lui come facciamo ci si parliamo così magari c'è un po' più di possibilità per gli altri vedremo un po' più giocabile dai va bene ci sta un saluto a tutti al prossimo guidone ciao a tutti